è il settimo giorno di viaggio ci avete visto più volte alternarci o parlare insieme raccontando queste giornate tra le varie province piemontesi ci avete visto qualcuno di voi più assidui anche nelle sale delle varie conferenze che abbiamo fatto però mancava una persona qui che doveva essere con noi in questi giorni che è luca sperius il nostro luca fondatore di italia che cambia di tante altre cose che ha sviluppato e progettato tecnicamente non solo la piattaforma piemonte che cambia tutto il progetto dei portali territoriali quindi non essendo qui con noi perché si è ammalato sto scemo capito è arrivato apposta dalla germania perché lui vive in germania e con come è giunto in italia pronto a sedere sul camper si è preso 40 di febbre non gli è più passato e allora volevamo dirgli che è qui con noi volevamo dirlo a tutti che questo lavoro se per caso vi piace è anche merito suo se non vi piace è solo colpa sua quindi insomma un saluto a luca e luca luca grazie sei qui con noi ciao ciao